Ciao ragazzi e ragazze, bentornati sul mio canale, io sono Daniele Danzu, o benvenuti sul mio canale se siete nuovi, spero ce ne siano di nuovi. E nulla, siamo tornati nella Legacy Challenge ragazzi e siamo tornati dalla nostra Daniele, che come vedete raga è praticamente sempre al computer, naviga sempre su internet per scoprire diciamo il segreto che i genitori le stanno tenendo nascosto. Oddio, ogni volta che dico segreto raga mi immagino già subito telenovela canale 5, quindi mi viene molto da ridere. Comunque oggi è domenica raga e diciamo non c'è da lavorare per la nostra Daniele, per fortuna siamo in piena estate, soleggiato, rovente, vediamo il calendario, Cosa ci sarebbe? Premi delle stelle, ma noi non ci possiamo accedere perché non abbiamo la fama, ma non ci interessa averla sinceramente. Ma volevo farvi vedere una cosa, la nostra Daniele comunque ha già una reputazione buona, abbiamo già avuto il primo step, il primo scalino conquistato Ed è anche abbastanza diciamo avanti, vedete continua a prendere una buona reputazione. Grazie alla tua buona reputazione inizia a spargersi la voce che sei una persona gentile, quando ti presenterai ad altri sim è possibile che all'inizio la vostra amicizia sia più salda del solito. E questa mi piace molto, guardate un po' raga, oioioi, invita a fare brainstorming, che non so cosa sia. E là pensavo, passavo da queste parti in cerca di un po' di ispirazione, magari insieme potremmo partorire qualche idea perché ragazzi appunto Jerome Sinclair, il nostro vicino di casa molto bellino che abbiamo conosciuto, ma guardate che fisicaccio, che abbiamo conosciuto, complimento sincero. Nel scorso episodio lui è una sorta di musicista e quindi come avete visto vuole cercare ispirazione con la nostra Daniele. E questa cosa mi piace molto perché Jerome è veramente, veramente caruccio per quanto particolare. Poi con questi capelli mi piace un sacco. Scusate ma io ci metto subito una bella fotina perché non si sa mai per la nostra copertina. Comunque lo rincontreremo Jerome perché oggi, essendo domenica e non dovendo fare granché, vedete abbiamo stretto amicizia, che bello. Non dovendo fare granché a livello lavorativo con la nostra Daniele, appunto Daniele pensava di invitare il vicinato al gorgheggio costiero, se non erro si chiama, questo locale appunto che fa parte del loro quartiere per fare un po' di, come si dice, un po' di karaoke insieme. Il che mi piace molto. Oh, livello di comicità a livello 3, molto bene. Spettagoliamo un po' sui vicini, la nostra Daniele ovviamente chiede a Jerome un po' più di informazioni comunque sul suo coinculino o se conosce già la famiglia Luis Guerra, altrimenti gliela faremo conoscere noi, dato che gli chiederemo di uscire tutti insieme, formeremo un gruppo. Ovviamente non inviteremo il rasoia, che ancora non abbiamo conosciuto, ma che non credo conosceremo perché mi stanno veramente antipatici. Chiediamo della carriera perché, raga, ho aggiunto un po' di carriere sia a Jerome, a David e anche alla famiglia Guerra, Luis, gli ho aggiunto tutto. Come potete vedere è intrattenitore, dilettante presso ribalta, perché appunto vuole diventare una, diciamo, un musicista, quindi sarebbe molto interessante vedere anche poi la loro di carriera, ma per ora no. Non abbiamo ancora ricevuto la promozione perché siamo nei due giorni di pausa, il che mi dà un po' fastidio, ma ragazzi dobbiamo anche darci un attimo da fare con l'aspirazione di vita della nostra Daniele, perché appunto lei vuole trovare l'anima gemella e ci sono un po' di robine da fare. Mettiamo questo libro a posto nel frattempo. Lei sta pulendo e io direi, raga, sono le 13.18 e la nostra Daniele sta benissimo, quindi io direi di, innanzitutto, aggiornare lo stato sui social media, così, aggiungere anche la storia su Instagram. Lui stava venendo da noi, forse, parla della temperatura rovente, quando proprio non si sa di che parlare si parla del tempo. Guardate, la nostra Daniele si sta facendo il selfie per Instagram. E nulla, raga, io direi... Ah, potremmo fare una cosa, chiedere se è single lui. Così, in amicizia, giusto per, perché comunque, dice, io buttiamo un attimo l'amo e vediamo se lui, diciamo, abbocca l'amo. Sì, Jerome è single, adoro, 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 adoro. Racconto una barzoletta rivolta a parlare del tempo soleggiato, oddio, parliamo sempre del tempo. E viaggiamo, raga, assolutamente, viaggiamo e chiamiamo. Allora, Jerome Sinclair sicuramente, con Paolo Rocca sta diminuendo l'amicizia, il che mi dispiace. I genitori no, Alicia Martin, vorrei comunque stringerci amicizia. Chiamiamo Iguerra. Ah, Jasmine Derbida e Arumbida li ho modificati, ragazzi, ma sabato vedrete un bel makeover dedicato a loro. Chiamiamo Lisa e David Baurwi. E penso, sì, siamo tutti benissimo. Quindi, con Jerome, diciamo che stiamo organizzando questa cantata al karaoke. Secondo me, la nostra Danielle morirà di caldo con quel giubbottino. Guardate che comitiva, adoro. Qui c'abbiamo Gorgheggio Costiero, oppure c'è anche Planet on a Hip Hop, che è un bar per karaoke che ho scaricato dalla galleria. È quasi quasi... Oddio. Però qui è ambiente da festa, quindi no. Vediamo, innanzitutto, il karaoke del nostro quartiere, dato che è un'uscita del vicinato, anzi, del pianerottolo. Vediamo, appunto, questo locale e poi magari andremo in un altro locale in Planet on a Hip Hop. Eccoci, ragazzi. E siamo arrivati al Gorgheggio Costiero. E, ragazzi, guardate la no... Che cosa stai andando a fare? Cosa stai andando a fare? Stai andando a Susanna Bartolini. Perché? Stiamo dando una mancia. Sì, perché siccome abbiamo già tanti soldi, allora dobbiamo dare pure la mancia a questa qui. Vabbè. Comunque, come vedete, la nostra Daniele si è messa il suo abito caldo, per temperatura calda. E andiamo qui... E... no. Sta già cantando la tizia. Cantiamo in duetto country con il nostro Jerome Sinclair, perché oggi è la sua giornata, praticamente. Andiamo subito a canticchiare un po'. Chi c'è qui? Questa è Catrina Calien... No, Arianna Costa. Guardate qui, c'è gente che canta in ogni dove. Chi sta bevendo? Ah, loro si stanno conoscendo. David Borgi e il nostro Cameron Lewis. E qui ci siamo noi, raga, con il nostro Jerome. Allora, se la tizia si leva... Ok, possiamo fare la vera fotina da copertina. Voilà. Ci piace un sacco. Bellini. Beh, sì, raga. Ovviamente nei commenti fatemi sapere cosa ne pensate di Jerome. A me non dispiace affatto per la nostra Daniella. Però vediamo poi... Allora, cantiamo un pochettino, perché poi succederà qualcosa. Qualcosa, qualcosa. Ah, David è andato a vedere anche la nostra Mary Guerra. Cantare. Ma loro sono favolosi. Se c'è una cosa che mi piace del karaoke di The Sims è che comunque sono le animazioni. Cioè, loro si muovono in maniera proprio stramba, raga. Mi piace un sacco. Eccolo Davide. David, anzi. Dopo parliamo anche con lui, eh. Perché mi sa che siamo amici con David. No. Vorrei, invece, far amicizia anche con lui. Visto. E aumenta la reputazione della nostra... Oddio, raga, scusate. È altissimo il volume del canto qui. Ok, abbiamo terminato. Benissimo. Andiamo da David. Spettacoliamo un po' sui vicini. Racconto una storia sensazionale. Questa è la... Dovrebbe essere... Sì. Questa è la nostra proprietaria di casa. Tutto a posto. Chiedi della carriera. Chiediamo anche a lui della carriera, raga, visto che ci troviamo. E mi sa che abbiamo fatto amicizia con il nostro David Borgi. Molto bene. Chi è questa che va in giro con il reggiseno? Vabbè, tutto a posto, insomma. E... Rallegra. E poi... Complimento sincero. Col nostro David Borgi. Spettacola. Sì, diciamo che fisicamente è messo meglio Jerome, eh. Anche lui è un intrattenitore. Perché, a differenza di Jerome, David vuole diventare una stela delle barzellette. Quindi è molto, molto carina come aspirazione quella. E... Ovviamente glorifichiamo i vantaggi del vegetarianesimo. O vegetarianismo. Come lo indica qui? Oddio. Altre scelte. Vediamo un po'. Vegetarianismo. David è d'accordo. Forse il vegetarianismo non è poi così terribile come pensava David. Potrebbe assaggiare un boccone. Giusto per vedere che effetto fa. Allora, qui ci sono le sorelle, appunto, guerra. Io però, prima di parlare con loro, perché... Oddio, guardate qui. Il nostro Cameron Lewis sta facendo amicizia con gli altri due vicini di casa. Adoro. Ma qui non c'è tipo uno stereo dove li possiamo far ballare tutti insieme. No, neanche a pagarlo. Mai una gioia. No, zero. Allora, io direi che possiamo... Non Mary Guerra, ma l'altra... Che non mi ricordo mai come si chiama. Liza, Liza, Liza. Ok. Vediamo qui, rallegriamo e poi ci sediamo un attimo qui fuori. Proprio... Ah, tra l'altro, ragazzi, è uscita del vicinato e c'è la signora Rasoia, l'ultima dell'altro appartamento, che praticamente è qui. Ok. Siediti e chiacchiera qui con le nostre due sorelle guerra. Perché ovviamente lei, ragazzi, è diventata amica con loro e ovviamente dopo l'ultima scena con i genitori, appunto, impara a conoscere e... Cosa c'è scritto qui? Fai un'imitazione. Diciamo che la nostra Daniella vuole confessare un attimo quello che sta succedendo. Amante dei cani, adoro Liza. E rallegra. E lei, diciamo, che confessa un po' alle ragazze, confessa un po' alle sue amiche, alle sorelle guerra. Cosa sta succedendo e tutti i dubbi che le stanno venendo. Ovviamente loro la consolano, le dicono un po' di non preoccuparsi che non sarà niente, però lei sa che non... Che c'è qualcosa che non va, c'è qualcosa che i genitori le stanno tenendo nascosto. E quindi, ovviamente, parlando, diciamo, del più e del meno, la nostra Daniella scopre che, in realtà, se riesco a trovare l'interazione, raga... Io volevo trovare... Ah, non te ne andare! Non te ne andare! Lei è solitaria, l'abbiamo capito. Vediamo. Non c'è chi vive la carriera, porca miseria. E chi vive la sua giornata? No, perché se ne sta andando anche lei? Ma tutto a posto. Ma che fanno? Cos'era quella cosina? No, vabbè, adoro. Impara a conoscere, sì. Mai una gioia, io non riuscirò mai a fare ciò che chiedi di coinvivere. Ma no, io voglio solo chiedere della carriera. Magari lo sto saltando e non me ne sto accorgendo. Non c'è, raga. Adoro. Cos'è quella macchia? Adoro. Discuti del cambio di quartiere? Sì, continuiamo. Ambiziosa. Ma in realtà io non voglio saperlo di lei, la carriera. Sinceramente. Chi gli dà la sua giornata? Chi gli dico in vivere? No. Esprimi ammirazione? Va bene. Intanto diventiamoci amiche. Visto che ci troviamo. Niente, non ce la possiamo fare. Conversazione profonda. Non c'è, raga. Non c'è. Ok, proviamoci con Liza. Perché, raga? Cosa succede? Allora, Liza guerra. Allora, Mary guerra è nella politica. Molto interessante come lavoro. Ma... Oddio, ma Liza è andata via? Non ci credo. Ok, proviamo. No, se ne è andata Liza. Sì, è rimasta solo lei. Comunque, no, se ne stanno andando. Benissimo. Allora, torniamo a casa. E io chiamo, praticamente, Liza guerra a casa. E lo facciamo da casa. Bellissimo che questo karaoke ci è piaciuto, anche se poi i nostri amici vicini di Pianerottolo sono andati via. Ci hanno lasciato con il moccolo in mano. Va benissimo. Eccoci qui, Liza. No, con Daniel. Chiamiamo Liza, ragazzi. In vita nell'otto attuale. Perché diciamo che Mary guerra, come che vedete, è politico. Guardate il lavoro di Liza guerra. Liza è un detective, ragazzi. E ovviamente Mary le ha detto a Daniel di chiedere proprio a Liza di indagare su... Ecco perché non usciva a chiedere la carriera, perché lo sa già. In vita ad entrare. Esatto. Vieni, cara, che dobbiamo parlare. Vieni, vi. Mettiamoci sul divano, belle, belle. Siediti qua. Magari... No, spettacola sui vicini. Oh, questo è spettacola, ma comunque sempre sui vicini, per colpa mia. Oddio. Liza è flertante, ma la nostra Daniel, diciamo, non è interessata a questa cosa con Liza. Diciamo che ha altri gusti. Tra l'altro, ragazzi, mi avete mandato una di voi, Valentina, credo, o Valeria, perché c'è scritto Vale, quindi non so esattamente come si chiama, e ti ringrazio perché mi hai mandato due famiglie che inserirò... Una sicuramente la inserirò comunque nello scenario, quindi vedrai i tuoi sim passeggiare, diciamo, nelle mie partite e magari interagiranno anche con Daniel. E sono molto contento perché è veramente una bella famiglia e quindi mi piace un sacco. Aneddoto divertente. Niente, raga, la nostra Daniel sta chiedendo a Liza Guerra, essendo un detective, anche se ha le prime armi, di indagare un po' sui genitori e di capire cosa, diciamo... Cosa le stanno tenendo nascosto, cosa sta succedendo nella sua famiglia, e capire se è qualcosa di grave oppure no. Quindi diciamo che ovviamente la nostra Liza Guerra, che è nostra amica, ovviamente non si rifiuta, anzi le dice, non ti preoccupare, che ci penso io. Quindi a breve dovremo scoprire, grazie a Liza Guerra, cosa sta succedendo tra i genitori della nostra Daniela. Allora, detto questo, sono le 21, vabbè, sono le 21 e qui se ne è andata Liza Guerra. Ok, Liza Guerra devo dire che è una fuggitiva, nel senso scappa spesso dal nostro... Ah no, è andata al computer, quindi già sta indagando. Raga, non so cosa sta succedendo al mio computer. Oddio, oddio. Perché si muove tutto? Aiuto. Aspettate, eh. Ok, raga, si era bloccato il mio computer, ma siamo tornati. Come vedete, la nostra Liza Guerra è andata subito al computer per iniziare a scoprire qualcosa dei genitori, ma ovviamente ci vorrà un po' di tempo e noi lo sapremo più in là cosa appunto sta succedendo. La nostra Daniela, perché va a mangiare sul letto se c'ha un cavolo grande quanto... non lo so, quanto tutta casa? Ok, bene, vai qui, mangia un po' qui, benissimo. Allora, innanzitutto, raga, volevo provare, ok, a fare poi il bucato, dato che ci troviamo. E poi, tra l'altro, i Guerra e i Luis sono proprio la famiglia che fu aggiunta con The Sims 4 un giorno di bucato, e quindi mi piace... lava il bucato, adoro! Mi piace anche vedere questa interazione che è molto, molto carina. Hanno aggiunto tanti oggetti carini con quella... con quell'espansione, con quel pacchetto, quindi a me piace davvero. Vedete, lei sta guardando al computer, sta cercando di fare qualcosa al computer. Vedremo cosa... cosa ne uscirà da questa ricerca del detective Liza Guerra. Tra l'altro sono tutti, ovviamente io gli ho dato, è vero, un lavoro a tutti, ma sono tutti a livello 1, eh. Non è che hanno chissà quali grandi... quale grande carriera. Poi magari, non lo so, magari ci giocherò off camera. Allora... oh, oddio, stanno parlando, lei sta dicendo non ti preoccupare, ci sto lavorando su. Però, tesoro, sono anche le 23 e 40, quindi direi che te ne puoi andare anche bella tranquilla a casa, che dici? Chiedi di andare via, molto bene, con molta gentilezza, mi raccomando, Daniel. Ora devo proprio andare, ecco, per l'appunto. Ciao, amica. E allora andiamo a dormire con la nostra Daniel Vert. Perché ver, non vert, in francese si dice ver, la T finale non si pronuncia. Perché, ragazzi, voglio capire se prendiamo questa cavolo di promozione a livello 3 dei social media. Secondo me sì, guardate, abbiamo tutto fatto, quindi vediamo un attimo. Voglio, appunto, vederlo con voi. E capiamo... ok, sta dormendo, sì, alla grande. Sta benissimo, tra l'altro la nostra Daniel. Ah, dovrebbe mangiare, in realtà. E anche andare in ban. Allora, io direi di fare USA. Ok, oh, voilà! Promossa ad autrice di titoli ESCA. Rispondi alla posta e condividi immagine. Molto bene. No, io la mando al lavoro direttamente. Cosa dobbiamo fare? Aggiorna lo stato sui social media. Facciamolo subito, perché così... Aggiorna lo stato sui social media. Cosa sta succedendo? Ok, completato. Molto bene. Va al lavoro fra praticamente un'ora. Quindi abbiamo il tempo di mangiarci questo piattino. E poi magari di prendi e sposta il bucato nell'asciugatrice. Molto bene. Dato che non abbiamo i fili per standare. Essendo in appartamento, non abbiamo neanche il balcone. Quindi, oddio! No, non ce la faremo. Dobbiamo andare a lavoro. No, è arrivato il... No, uff, è arrivato da pagare l'affitto. Avevamo fatto un po' di soldini. E invece è arrivato da pagare l'affitto. Vabbè. Nulla. Abbiamo finito di mangiare. Dai, così vai al lavoro. Bella carica. È andata? Yes! Ok. Fai una ricerca sulle storie d'oro. Lavora a suodo. Molto bene, ragazzi. Allora, io direi che questo episodio può terminare qui. Eccolo, Jerome. Niente, ragazzi. Jerome ci sta provando spudoratamente. Cioè, prima è venuto a casa, ora ci stava chiedendo di uscire. Quindi, fatemi sapere cosa ne pensate. Se vi piace Jerome Sinclair come possibile fidanzatino per la nostra Danielle Verre. Non che dovrà essere per forza l'uomo della sua vita, però un iniziale... Eeeh... Ci hanno promosso ancora. Adoro. Pubbliche relazioni o personalità di internet? Eeeh... Io direi... Personalità di internet. Sì, voglio... O pubbliche relazioni? No, pubbliche relazioni. Mi piace di più. Voilà. Promossa coordinatrice di pubbliche relazioni. Direttamente dai fan. Crea una rete di contatti con i giornalisti. Scrivi nel blog per i follower. Adoro. Mi piace, raga. Quindi siamo arrivati a livello 4 nel giro di poche... Di pochi giorni. Brava la nostra Danielle. Meno male, ma è ambiziosa lei, mi sa. Perché... Ah, ok. È ambiziosa. Quindi, ovviamente, ha più rendimento lavorativo. Però si deve divertire. Quindi, vieni qui e guardati la TV. Dicevo, possiamo terminare qui l'episodio. Raga, fatemi sapere cosa ne pensate di Jerome Sinclair. Fatemi sapere se vi piace, diciamo, se vi piacciono i lavori che ho dato ai nostri vicini di casa. Oddio, ma com'è vestito questo? Vabbè. E nulla. E se avete nuove teorie sul segreto dei genitori di Danielle, fatemi sapere. Io vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettere un mi piace se questo video vi è piaciuto. Condividerlo magari con i vostri amici. E nulla. Vi mando un bacio dal vostro Daniele Danzu. E ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti. Ciao a tutti.